questa vecchia produzione ragazzi però chissà che non si stia lavorando per davvero a qualche cosa di grande insomma vedete quest'uomo now working sta studiando i soggetti sul video è un progetto di resistenza ragazzi dunque lavorazione dei nuovi video ufficiali ci proviamo abbiamo qui questa persona che possiamo soltanto dare per scoprire il suo nome un aiutino diciamo bruno anzi orso vabbè abbiamo svelato il nome con noi bruno perrona grande resistenza cerchiamo di portare in porto i progetti approntati visto quante p come si dice quando ci sono le ripetizioni delle p è vero c'era anche la p progetti approntati con perrona esatto ci sta l'assonanza la consonanza sarà una consonanza va bene consonanza di intenti restate connessi intanto ci guardiamo qualche video resistere iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale